Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Brutta disavventura per Valeria Fabrizi, una delle attrici più amate e apprezzate di cinema e tv italiane. L'interprete veneta, ospite del programma di Rai 1 la vita in diretta, ha raccontato di aver avuto un incidente dal quale si è salvata per miracolo. L'attrice 86enne, tra le più longeve della storia dello spettacolo nostrano, stava terminando la sua intervista alla vita in diretta quando ha avuto un flash dicendo sai che anch'io ho avuto un miracolo? Sono caduta dalle scale. È il caso di dire che Dio ci aiuti, è proprio il momento perché succede di tutto. Purtroppo Matano, avendo poco tempo a disposizione, non ha potuto indagare su ciò che è accaduto ma ha invitato nuovamente la Fabrizi per darle modo di raccontare cosa sia successo. Tuttavia, appunto, non è chiara la dinamica dell'accaduto anche se si tratterebbe di un incidente domestico, quantomeno non sul set. Tuttavia, appunto, non è chiara la dinamica dell'accaduto. Tuttavia, appunto, non è chiara la dinamica dell'accaduto.